Associazione Nazionale Carabinieri, un cuore con le ali e le guardie ecozofile dell'OIPA, Organizzazione Internazionale Protezione Animali, insieme, per fare del bene. Proposta a Varese una raccolta fondi da destinare alle famiglie più bisognose e volta a garantire loro un prelibato pranzo di Natale attraverso la distribuzione di buoni spesa. Concretamente, per tutto il mese di novembre, nella sede dell'Associazione Carabinieri di Via Magenta, dal lunedì al sabato, dalle 15.30 alle 17.30, sarà visitabile una mostra di quadri che potranno essere acquistati con un'offerta minima di 20 euro, denaro che verrà appunto investito nell'acquisto di buoni spesa. I quadri sono stati donati proprio con l'obiettivo di metterli a disposizione di un progetto benefico. Inoltre, sabato 16 novembre, in Piazza Podestà, verrà allestito un gazebo dalle 10 alle 18, proprio per far conoscere a Varesini e non soltanto l'iniziativa, e per raccogliere fondi. Il 16 di novembre avremo un gazebo in Piazza Podestà, a Varese ovviamente, dalle 10 alle 18. Anche in questo caso avremo tante sorprese, avremo delle auto storiche, delle divise storiche, avremo tanta musica, avremo dei piccoli regali per i bambini, dei dolci regali per i bambini, anche in questo caso lo scopo è fare del bene, quindi fare una raccolta che andrà ad allietare il Natale di famiglie molto bisognose. Il ruolo delle guardie ecozofile all'interno del progetto è prezioso. Parte dei fondi verrà infatti devoluta agli amici a quattro zampe, membri preziosi delle famiglie in difficoltà e meritevoli di attenzione e di cibo. Con questi soldi, delle donazioni, noi potremo trasformarle in buoni spesa che andranno a favore appunto di queste famiglie nel periodo natalizio, le consegneremo personalmente noi e in aiuto anche ai loro animali che alla fine sono dei membri della famiglia.